La prima volta per i di Albani, vice sindaco e con deleghe molto importanti come quelle della pari opportunità e sociale. Sì, la mia prima volta, sono vice sindaco, ringrazio tantissimo il sindaco per avermi dato questa opportunità e sono molto onorata di ricoprire questa carica, ringrazio anche Marco Di Carlo per aver fatto il cosiddetto passo indietro e aver rinunciato quindi alla carica. Le deleghe? Sì, sicuramente il sociale mi impegnerà moltissimo, come abbiamo già detto in campagna elettorale daremo molto spazio alla disabilità tant'è che abbiamo intenzione di aprire un ufficio per la disabilità, spero di farlo entro la fine dell'anno. Per quanto riguarda le pari opportunità gioco in casa perché sono ancora vice presidente della commissione pari opportunità del Comune di Giulianova e componente della commissione provinciale. La commissione pari opportunità del Comune di Giulianova sta lavorando in prorogazio, fino alla fine dell'anno lavorerà perché ci sono molti eventi da organizzare e poi a gennaio penso di modificare il bando per poi rifarlo e nominare la nuova commissione già a febbraio. Quindi già al lavoro perché come dichiarato dal sindaco Ivan Costantini di lavoro ce n'è veramente tanto? Sì ce n'è tantissimo, in realtà siamo qui oramai già da dieci giorni, da oggi siamo ufficialmente delegati e c'è davvero molto da fare ma non ci tiriamo indietro assolutamente e speriamo di ripagare la fiducia che i giuliesi ci hanno dato.